radio pirata la radio nella radio ed eccoci pronti per un nuovo arrembaggio di radio pirata la radio nella radio ben ritrovati io sono gabriele come al solito vi parlerò di radio con alcune cose molto interessanti ad esempio oltre le distanze oltre le barriere fai radio questo è molto molto carino occhio alla radio i ragazzi e il radiodramma 70 trattino 80 punto it il famoso sito che si occupa di anni 70 e 80 con una buona quantità di bei ricordi a proda su giornale radio ci spostiamo invece in venezuela perché lì è stata spenta una voce libera quindi hanno chiuso una radio in venezuela anche la spagna sarà nella nostra rotta vi parlerò della radio che sta facendo i conti purtroppo anche lì con il covid 19 interessante segnalazione per cominciare che arriva da fm trattino world punto it oltre le distanze oltre le barriere fai radio da piacenza a rimini c'è una rete di web radio di ragazze e ragazzi che aspetta la tua voce questi contenuti di un'inserzione pubblicitaria sulla stampa bolognese da parte della regione emilia romagna che ricordava così l'esistenza di www.giovazoom.emr.it un punto di riferimento istituzionale per una rete diffusa di emittenti radiofoniche realizzate dai giovani della regione alcune nascono all'interno delle aule di scuola o sui banchi dell'università altre sono legati invece a dei progetti particolari territoriali o a volte a eventi particolarmente significativi ecco vedete che le inserzioni pubblicitarie a volte sono anche interessanti ecco non ci sono solo quelle che ci annoiano e ci fanno cliccare altrove tornando a questa segnalazione ci sono le radio quelle che trasmettono dagli spazi di aggregazione e quelle che si occupano di temi molto specifici ognuna ha una propria peculiarità e ha una storia molto interessante fatta di incontri di studio di passione di innovazione di creatività sono le tante web radio giovanili presenti in emilia romagna uno strumento con cui i ragazzi e ragazze non solo hanno la possibilità di approfondire e conoscere meglio i linguaggi multimediali ma di essere veramente protagonisti in molti casi la regione emilia romagna soprattutto attraverso i fondi delle politiche giovanili assegnate alle amministrazioni locali con i bandi della legge regionale 14 08 le ha sostenute le ha incoraggiate a crescere sempre di più ma è proprio la voce dei giovani a renderle speciali ogni mese una web radio diversa sarà protagonista della rubrica giovani in onda ed ecco un elenco delle emittenti finora presentate nella rubrica si va da radio frequenza pennino radio 5.9 gioia web radio uniradio cesena radio officina radio sonora alta frequenza radio evolution look up radio radio giardino rumore web radio planet on air radio immaginaria reggio calling radio rio zez web radio cap altre velocità pc radio cult radio fly web valma radio riccione web radio radio das e radio casotto di alcune di queste emittenti vi ho già parlato nelle passate puntate e cercheremo magari anche di ritrovare negli archivi i podcast e rimetterli in evidenza perché veramente hanno tutte delle storie molto interessanti da conoscere da scoprire ma soprattutto da ascoltare se volete dei riferimenti c'è un sito web che è www.giovazoom.emr.it su questo sito ci rimaniamo su questo www.giovazoom.emr.it perché nello stesso sito ma nella sezione creatività c'è una segnalazione da fare a riguardo di occhio alla radio parte che mi ha colpito perché documenta un'edizione sicuramente speciale quella di occhio alla radio l'iniziativa realizzata da altre velocità in collaborazione con officina adolescenti che è lo spazio di aggregazione culturale presente in sala borsa a bologna e con il sostegno appunto dell'assessorato alle politiche giovanili dell'emilia romagna è nata nel 2019 con l'obiettivo di coinvolgere adolescenti e preadolescenti appassionati di teatro e di radio in una vera e propria redazione di giornalismo e di critica teatrale attraverso un percorso laboratoriale fatto di incontri di approfondimento visioni di spettacoli e successiva costruzione di podcast e interviste ha dovuto confrontarsi nel 2020 con le chiusure dei teatri e dei luoghi di cultura imposte dalle normative per il famoso contenimento della pandemia una situazione che però è stata raccolta come una sfida ad esplorare una modalità diversa di venire in contatto con il teatro passando cioè dallo sguardo all'ascolto il viaggio di questa seconda edizione che ha coinvolto un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori ha spinto i giovani critici ad indagare la storia del radiodramma ne ho già parlato tempo fa di questi capolavori che c'erano al tempo alla radio ma che fortunatamente esistono ancora riscoprendone il ruolo e la diffusione negli anni della dopoguerra ed evidenziando nelle prospettive future gli incontri si sono svolti in presenza e questo è stato infatti uno dei pochi laboratori che è riuscito a resistere nel rispetto delle normative vigenti al virus ragazze e ragazzi hanno analizzato alcuni radiodrammi condotto interviste telefoniche e si sono esercitati all'ascolto una pratica che consente di avvicinarsi al mondo esterno e nello stesso tempo di interrogare se stessi i propri pensieri e i propri stati d'animo trovate la lista dei podcast prodotti su www.giovazoom.emr.it nella sezione creatività che vi segnalavo prima c'è un articolo in particolare che è intitolato fare radio e ascoltare il teatro in tempi di pandemia e farete anche la conoscenza di radio emilia romagna che è un canale di informazione dell'assessorato alla cultura e paesaggio nato nel 2006 da un progetto della presidenza della giunta della regione emilia romagna realizzato dall'agenzia di informazione e comunicazione della giunta regionale in collaborazione con la consulta degli emiliano romagnoli nel mondo curato da cinzia leoni. RER questo l'acronimo è la prima radio istituzionale in podcast realizzata da una regione italiana offre quotidianamente degli approfondimenti in tema di creatività e di cultura in sinergia con emilia romagna creativa punto it il progetto regionale multimediale di informazione e di promozione culturale di cui è parte quindi un'altra grande bella realtà da scoprire da seguire da ascoltare e perché no magari anche provare a metterci la voce a collaborare perché spesso volentieri ci si lamenta è vero non ci sono più le radio locali di una volta dove fare un po di gavetta ma ci sono tante realtà diverse digitali moderne forse un po lontane dall'ambiente radiofonico originale ma che permettono appunto a tanti appassionati a tanti ragazzi a tante ragazze di esprimere la propria opinione di raccontare qualcosa di interessante e di restare svegli con il cervello quindi in bocca al lupo a questi progetti ma soprattutto alle persone che ne fanno parte e che chissà ne faranno parte in un futuro speriamo prossimo 70 trattino 80 punto it il periodico online dove si rivivono episodi aneddoti ed esperienze dei due indimenticabili decenni arriva a giornale radio ne da notizia fm trattino world punto it ma anche ovviamente il sito 70 trattino 80 punto it il tutto nasce da un'idea di massimo lualdi che ne è direttore e che ha visto una continua crescita di interesse sia da chi ha vissuto l'epoca sia da chi ama scoprirla e approfondirla ora 70 trattino 80 punto it diventa dunque un programma radiofonico ed esattamente da sabato 3 aprile ogni weekend il giornalista francesco massardo ospita su giornale radio proprio massimo lualdi che è anche direttore responsabile di testata della stazione all news dove vengono appunto raccontati due articoli di questo interessante sito l'appuntamento è ogni sabato e domenica alle 9 12 15 18 nel primo weekend sono stati trattati i pezzi dei giornalisti marco barsotti ed enzo mauri rispettivamente sul film grand prix del 66 e del brano musicale del 1979 dei baggles video kill the radio star a sua volta il programma sarà disponibile in podcast su 70 trattino 80 punto it giornale radio lo ricordo è un prodotto radiofonico ibrido che pone le notizie al cuore del palinsesto il mainstream della digital radio giornale radio è rappresentato infatti da giornale radio all news che trasmette 200 notiziari al giorno senza opinioni né commenti oltre a rassegne stampa rubriche speciali e approfondimenti sull'attualità giornale radio si ascolta su tutte le piattaforme digitali in streaming su giornale radio punto fm sul canale 262 del digitale terrestre e in alcune regioni italiane in fm ed ab plus 70 trattino 80 punto it presente anche su facebook e naturalmente sul sito con tanti contenuti da leggere e da ascoltare per grandissima gioia di chi ha vissuto quel periodo ma anche con tanta curiosità da chi invece non l'ha vissuto ma vuole conoscerlo e scoprirlo e dopo questa prima parte in radio pirata la radio nella radio dedicata alla radio con una certa leggerezza ci occupiamo di temi decisamente molto più gravi come ad esempio lo spegnimento di una radio in venezuela radio nazional punto com punto ar nella rubrica attualità di x della rae radio argentina al mondo del 12 marzo 2021 dava notizia di una voce libera spenta in venezuela il gruppo sindacale dei lavoratori del settore della stampa del venezuela ha denunciato a metà marzo che l'ente regolatore delle telecomunicazioni ha ordinato la chiusura e ha sequestrato le apparecchiature dell'emittente selecta 102.7 fm attiva nello stato nord occidentale di zulia il gruppo sindacale ha precisato che lo scorso 26 febbraio un gruppo di indigeni ha attaccato la sede dell'emittente nel momento in cui un dirigente dell'opposizione l'ex deputato juan pablo guanipa veniva intervistato fin dall'inizio del mese di gennaio sono stati denunciati attacchi contro i media come ad esempio il canale tv digitale vp itv che ha interrotto temporaneamente le sue trasmissioni a caracas dopo il sequestro delle apparecchiature oppure il blocco su internet dei portali come il giornale panorama effetto cocuyo o alberto news gli attacchi hanno fatto sì che la società interamericana della stampa sip accusasse lo scorso 11 gennaio il regime di maduro di essere dietro ad una nuova ondata di aggressioni contro i media e i giornalisti indipendenti tre giorni dopo anche amnesty international e altre organizzazioni internazionali hanno chiesto al governo di cessare immediatamente gli attacchi contro la libertà di espressione e di informazione cercando in rete ho trovato anche un altro articolo riconducibile a questa situazione pubblicato da il post punto it dove sembra esserci un episodio chiave datato 17 agosto 2020 quattro uomini armati avevano picchiato davanti alla sua famiglia e poi rapito osè carmelo bislic conduttore di un popolare programma radiofonico il corpo dell'uomo morto è stato trovato il giorno dopo vicino a casa sua a guiria nello stato venezuelano di sucre bislic aveva 51 anni era un leader politico locale membro del partito socialista unito del venezuela partito di maduro durante il suo programma alla radio chiamato el pueblo en combate in cui si occupava di politica e questioni locali bislic aveva iniziato da tempo a prendere posizioni contro la corruzione il traffico di droga l'estorsione la vendita di benzina di contrabbando e anche a criticare la rivoluzione socialista portata avanti da maduro i responsabili della morte di bislic che non sono ancora stati trovati così ha scritto il committee to project journalist un'associazione nata per difendere la libertà di stampa e i diritti dei giornalisti e delle giornaliste quindi ancora una volta la radio viene spenta nei paesi dove effettivamente una voce libera e indipendente dà veramente fastidio e facciamo rotta sulla spagna a questo punto in radio pirata la radio nella radio una notizia pubblicata dal sito el espagnol punto com che ci fa notare come anche in spagna il covid 19 abbia colpito anche i fatturati delle radio e di conseguenza la difficoltà nel proseguire attività e dare sostegno a chi ci lavora il covid infatti ha fatto chiudere il 2020 alle stazioni radio con un duro colpo nella fatturazione pubblicitaria che è poi la loro unica fonte di reddito come succede spesso anche dalle nostre parti i dati presentati da info adex sono stati devastanti hanno rappresentato un calo del 22,9 per cento per tutte le stazioni in totale il settore ha smesso di guadagnare qualcosa come 111,5 milioni di euro in un solo anno un impatto duro su tutte le filiere sia cadena ser che cope sono scesi a livelli mai visti in un decennio mentre quelli più piccoli come rack 1 catalunia radio o kiss fm hanno avuto un impatto minore ma altrettanto importante da sottolineare lo ricordo che cadena ser e cope sono sicuramente tra le realtà spagnole più grandi e importanti del paese tutto ciò ha costretto le emittenti a continuare a sistemare un po i costi e a considerare nuovi tagli salariali per le loro grandi star che potrebbero vedere i loro importanti contratti tagliati per il secondo anno consecutivo e probabilmente fino alla fine dell'anno e a questo si aggiunge che nessuno crede che la situazione finanziaria risalga almeno fino al 2022 in termini finanziari cadena ser ha mantenuto la leadership pubblicitaria con una quota del 39,5 per cento ma i minimi ricavi con un fatturato di 128,5 milioni in calo del 25,4 per cento nel caso di cope con una quota di mercato del 16,4 per cento sono entrati 85,8 milioni il 24,4 per cento in meno una situazione che costringe dunque a cercare soluzioni urgenti il quotidiano e le spagnol ha riferito che si stanno finalizzando i piani di adeguamento dei costi su tutti i suoi media in effetti si balena l'idea di presentare piani di congedo incentivato alle sue stazioni radio il covid 19 dunque continua a incidere su questi conti e la paura più grande è quella d'italia le grandi star di queste radio che dal punto di vista economico aiutano appunto queste realtà radiofoniche a mantenersi in piedi con gli sponsor ma va ricordato che hanno appunto dei costi non indifferenti situazione che come dicevamo prima si protrarrà probabilmente per tutto l'anno e probabilmente nel 2022 si vedranno forse dei risultati e vedremo se si manterrà così la situazione o se si tornerà alla normalità situazione che come abbiamo già notato un po di tempo fa ha dato un duro colpo anche qui in italia le emittenti radiofoniche locali soprattutto quelle più piccole quelle che appunto vivono solo ed esclusivamente o quasi di pubblicità in un momento così difficile il calo del fatturato genera sicuramente dei grossi problemi di gestione quindi